I ministri degli interni dei cinque paesi mediterranei in prima linea nella migrazione di massa verso l'Europa vogliono che i loro partner condividano l'onore in modo più equo. Le richieste sono triplici, migliore cooperazione con i paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia Meridionale da cui proviene la maggior parte dei migranti e dei richiedenti asilo, maggiore disponibilità da parte di altri paesi membri dell'Unione ad accettare migranti appena arrivati e un meccanismo di rimpatrio europeo centralizzato. Non possiamo più essere puniti per la nostra posizione geografica, non possiamo più essere lasciati ad occuparci soli degli arrivi irregolari da paesi terzi, non possiamo più essere puniti per aver salvato vite in mare. Aumentando la cooperazione con i paesi di origine e di transito possiamo evitare arrivi irregolari, così come evitare il traffico di persone, il traffico di immigrati e ovviamente la perdita di vite umane. Sabato intanto oltre mille persone hanno protestato in solidarietà con migranti e rifugiati nel centro di Atene. I manifestanti hanno chiesto la sicurezza e il diritto di asilo. La Grecia, che ospita il summit dei cinque paesi dell'Europa meridionale, è di nuovo al centro di grossi problemi, visto che la rotta balcanica dei migranti ha ripreso forza.